Il progetto è smart perché ha perseguito la dimensione agile prospettata nel nostro piano strategico 2021-2026 che mette al centro le competenze, i comportamenti e la cultura organizzativa del lavoro agile ed ibrido. È stato un progetto innovativo perché abbiamo messo in campo non una ma più metodologie. Penso ad esempio ai micro team che abbiamo formato che hanno utilizzato il metodo dell'autocaso per trovare delle soluzioni di immediata applicazione, ma penso anche alle tecniche di coaching o agli questionari di autovalutazione dei propri comportamenti organizzativi. È stato un progetto innovativo perché il diverso background dei formatori che abbiamo ingaggiato ha permesso di fornire una lettura in un'ottica multidisciplinare delle diverse situazioni organizzative che coinvolgono il nostro personale. Il nostro progetto è stato inclusivo perché ha permesso di erogare una formazione trasversale a più livelli. Abbiamo coinvolto tutte le dirigenti e tutti i dirigenti oltre che al middle manager in una formazione di coaching. Abbiamo inoltre coinvolto tutto il personale in una formazione sulle competenze organizzative connesse al lavoro agile, in linea col piano organizzativo del lavoro agile e della certificazione del family audit. Il nostro progetto è stato inclusivo perché ha permesso a tutto il personale di acquisire attraverso un linguaggio semplice e immediato le competenze e le principali app per collaborare e comunicare anche in un contesto di lavoro agile e ibrido. Questo progetto di formazione ha portato ad un miglioramento dei comportamenti manageriali ed organizzativi. Ha portato ad una revisione del set di comportamenti attesi all'interno del nostro sistema di misurazione e valutazione della performance e soprattutto ci ha convinto nella necessità e nell'opportunità di proseguire con il progetto formativo estendendolo a tutto il personale dell'Ateneo. Grazie. 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 Grazie.